Una soluzione per combattere la xylella va individuata, ma non deve passare dall'eradicazione degli alberi sani. Una posizione unanime a livello istituzionale che parte dalla Puglia, con le parole delle scorse ore del governatore Michele Emiliano, e arriva fino a Bruxelles. Lunedì prossimo il commissario europeo alla salute Vitenis Andriukaitis sarà in Salento per rendersi conto di persona dei danni causati dal batterio killer e dalle altre con cause del dissecamento rapido degli ulivi insieme a Emiliano, al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e agli europarlamentari europei che da tempo stanno lavorando ai fianchi la Commissione europea. La nostra azione è stata dapprima caratterizzata dalla presentazione di alcune interrogazioni, successivamente in seguito alla visita del presidente Vendola qui in Parlamento. Abbiamo sollecitato la Commissione Agri, cioè la Commissione competente, la Commissione Envi, la Commissione ambiente, ad avviare un percorso che avesse al centro un confronto mirato a contenere il tema dell'abbattimento degli alberi dissecati, che comunque prevedesse la costituzione di una sorta di cintura di protezione per impedire che l'infezione possa risalire e quindi raggiungere anche altre province. Abbiamo posto il tema dell'embargo nei confronti dei paesi del Sud America come la Costa Rica. Da quel paese arrivano appunto le piante portatrici del patogeno xylella, che è un patogeno da quarantena, quindi un patogeno che va affrontato in maniera autorevole, robusta, perché appunto è tra quelle specie che vanno, come dire, messe in quarantena con le piante portatrici. La cosa che noi interessava era che non facesse soltanto la visita con le autorità preposte, che per carità ci sta, ma che scenda sul campo e soprattutto prenda contatti con gli esperti e con chi sta facendo sperimentazione sul campo combattendo quello che per noi è codiro e non è una sindrome d'axylella con metodi naturali. Quindi noi miriamo affinché tutta l'agricoltura sia più organica, si dice qui in Europa, più biologica possibile. Sappiamo che ci sono metodi alternativi che le università del Salento, di Foggia e della Basilicata stanno studiando e quindi vogliamo che il commissario ne prenda atto.